paura nella notte ad ancona un grande incendio devassa diverse strutture del porto a pesaro continua la lotta allo spaccio incastrata dalla polizia una giovane diciottenne confindustria ospita il confronto dei candidati alla presidenza della regione scadono lunedì le iscrizioni per il bando della onus gulliver ecco come partecipare buona serata questo il telegiornale di mercoledì 16 settembre sul nostro rossini news su rossini tv visibile in tutta la regione marchi allora apriamo questa edizione parlando subito del tremendo incendio che ha colpito questa notte l'area portuale di ancona 12 le squadre di vigili del fuoco impegnate sul posto per calmare le fiamme e tra queste ce n'era una anche di pesaro vi raccontiamo tutto in questo primo servizio di daniele romagna esplosioni in sequenza il fuoco che divampa rapidamente verso il cielo e una corona di fumo nero visibile a chilometri di distanza sono i primi momenti del vasto incendio che ha colpito questa notte l'area portuale di ancona immagini terribile quelle che arrivano dal capoluogo marchigiano che fortunatamente non hanno causato vittime o feriti ma che hanno suscitato paura e terrore soprattutto tra gli operai e gli addetti ai lavori presenti sul posto al momento dell'accaduto le fiamme scoppiate mezz'ora dopo lo scoccare della mezzanotte che hanno richiesto l'intervento di 12 squadre dei vigili del fuoco alcune di queste provenienti anche da macerata e pesaro hanno interessato un capannone nell'area centrale del porto il deposito della ex tubimar magazzino che si estende su una superficie di 40.000 metri quadrati contenente materiale per lo stoccaggio paura anche per l'eventuale tossicità delle sostanze presenti all'interno del capanno da qui la decisione dell'amministrazione comunale di ancona di chiudere scuole e parchi e l'invito a limitare il più possibile gli spostamenti restando in casa e tenendo chiuse le finestre intorno a mezzogiorno si è poi riunito il centro operativo comunale per discutere le linee guida da intraprendere l'amministrazione ha però rimandato nell'arco della giornata qualsiasi decisione relativa alla proroga della chiusura delle scuole in attesa di conoscere i risultati degli esami di asur e arpam sulle condizioni dell'aria allo stesso tempo è stato però sottolineato che la centralina della città ha evidenziato un picco delle pm1 questa mattina alle 8 il quale è andato poi a carare nelle ore successive antonio d'acunto prefetto di ancona ha spiegato che ancora troppo presto per stabilire le cause che hanno dato origine al grande rogo tutte le piste rimangono però aperte e al vaglio degli inquirenti anche se attualmente non sono stati rinvenuti elementi per accertare il carattere doloso dell'accaduto dell'area colpita dalle fiamme sono rimaste soltanto macerie l'incendio che dal capannone centrale si è poi sviluppato anche in altre strutture è stato prontamente circoscritto già durante le ore notturne a partire da questa mattina sul posto per continuare le operazioni di spegnimento di tutti i focolai che si sono andati a creare vista la rapida estensione delle fiamme creata dal vento sono rimasti unicamente i vigili del fuoco del capoluogo i rinforzi provenienti dal comando di pesaro sono invece rientrati in città come fermato dal capo squadra mirko sambuchi sul posto erano già presenti le squadre del comando di ancona tutte le strutture interessate erano strutture vecchio magazzini adiacenti al porto sicuramente per il messaggio materiale in disuso vidi resine barche bombolame carta e quant'altro ma ancora è al vaglio sicuramente del personale di ancona per da visionare nella giornata di oggi perché ancora l'incendio è attivo erano sul posto anche tutti i mezzi aeroportuali per lo spegnimento dell'incendio come squadra di pesaro siamo stati eh utilizzati eh nella salvaguardia e il contenimento dell'incendio rispetto all'azienda della ditta sol che fanno un cameramento in bombole di materiali gasosi e gas inerti e acetileni mh ossigeno liquido azoto e anche in aria e per manufatti e condotti respiratori ospedalieri siamo stati tutta la notte a presidiare il sito eh che non è stato è interessato affatto dalla parte dell'incendio perché era una distanza sufficientemente utile per tutelarlo questo è quanto e questa mattina in accordo con il funzionario eh l'ingegnere presente sul posto eh abbiamo valutato che la nostra squadra poteva rientrare il comando di pesaro e rimaneva a copertura una squadra del comando di ancona ed ora un aggiornamento di poco fa che ci arriva dai vigili del fuoco di pesaro i quali ci informano che sette unità del comando pesarese sono intervenute nuovamente questa mattina intorno alle undici nell'area portuale di ancona con un autobotte e un autobotte pompa per continuare nell'operazione di spegnimento delle fiamme e ovviamente continuate a seguire le nostre edizioni del telegiornale i nostri momenti di informazione rimanete connessi anche sui nostri canali social facebook e instagram per aggiornamenti relativi proprio all'incendio che ha colpito la città di ancona ed ora torniamo a pesaro e continuiamo con la cronaca perché prosegue l'attività di contrasto allo spaccio condotta dalla polizia di stato nel pomeriggio di ieri gli agenti sono intervenuti presso il parco cittadino denominato appunto orti giuli identificando alcune persone tra queste una diciottenne che grazie anche all'aiuto del cane antidroga ha prima consegnato in maniera autonoma il residuo di uno spinello e dopo la perquisizione del marsupio effettuata proprio dai poliziotti è stata trovata in possesso di 17 dosi di hashish per un peso complessivo di circa 8 grammi e la somma di 125 euro in contanti il controllo esteso all'abitazione della sospettata ha poi portato al rinvenimento di ulteriori 4 grammi circa di hashish di un bilancino elettronico di precisione e di altri 290 euro la giovane è stata indagata in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio ed ora in primo piano la politica con le elezioni regionali perché i candidati alla presidenza della regione marche ma anche alcuni consiglieri rappresentanza di quelli mancanti hanno incontrato questa mattina nella sede di confindustria pesaro urbino i rappresentanti di tante associazioni di categoria per affrontare tematiche relative proprio ai bisogni del territorio la sede di confindustria pesaro urbino ha ospitato questa mattina i candidati alla presidenza della regione marche in vista delle prossime elezioni per presentare bisogni e priorità del territorio formulati dalle associazioni di categoria che hanno organizzato l'incontro otto i punti essenziali tra cui il tema legato alle infrastrutture alla burocrazia del documento unico firmato da confindustria cia cna confagricoltura confartigianato confesercenti copagri e lega cop a cui i candidati governatori hanno presentato soluzioni e proposte del proprio programma elettorale oggi presentiamo un documento ai candidati alle regionali alle politiche regionali un documento che è frutto di un lavoro fatto con tutte le associazioni di categoria noi come associazioni del nostro territorio ci incontriamo già periodicamente per analizzare quelle che sono le problematiche del nostro territorio e soprattutto dare indicazioni e dare soluzioni per la ripresa economica del punto del nostro territorio sono tutti i temi condivisi tutti i temi sono sono cari al a far sì che questo territorio porti 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 sviluppo e soprattutto un rilancio della nostra economia che cercherà di recuperare quelle quei punti di pil persi le infrastrutture sono la base di un paese avanzato di conseguenza riteniamo che siamo rimasti un po indietro per essere competitivi non solo le infrastrutture c'è una burocrazia che ci rende poco competitivi nelle attività nella concorrenza ecco il territorio noi chiediamo che anche le amministrazioni si avvicinino di più a quelli che a comprendere quelli che sono i bisogni dell'impresa e ci aiutino a rilanciare non sono aiuti economici che chiediamo ma sono aiuti per rendere più snelle le attività e essere chiaramente più competitivi il credito sarà fondamentale garantire liquidità le nostre imprese in un contesto economico così complesso quindi ai candidati chiederemo impegni concreti e seri per il tema di credito di liquidità di un ruolo importante nelle delle banche nella regione Marche e mettere al centro dell'impresa perché l'impresa in questo momento ha necessità di liquidità di garanzie di serenità liquidità anche in tempi veloci bandi a portata anche di piccola impresa bandi importanti a cui possono accedere tutti che danno contributi e un futuro a questa regione ed ora apriamo la pagina relativa agli aggiornamenti relativi al covid 19 forniti come sempre dal gores nelle ultime 24 ore sono stati testati 1346 tamponi 755 nel percorso nuove diagnosi e 591 nel percorso guariti i positivi sono 38 nel percorso nuove diagnosi 12 in provincia di ascoli piceno 7 in provincia di macerata 7 in provincia di ancona 6 nella provincia di pesaro urbino 3 in provincia di fermo e 3 fuori regione questi casi comprendono due rientri dall'estero ed esattamente dall'ucraina e dall'america otto contatti stretti di casi positivi sei soggetti sintomatici otto contatti domestici tre casi rilevati dallo screening svolto nel percorso sanitario due contatti in ambito assistenziale residenziale un rientro dalla sardegna e otto casi in fase di verifica ed ora ci spostiamo in carpegna perché dopo averle raccontate in diversi speciali televisivi che abbiamo proprio realizzato noi di rossini tv e torniamo a parlare delle esperienze offerte dal pacchetto carpegna holiday che con la fine dell'estate cambia anche le giornate di programmazione quindi ne abbiamo parlato con il sindaco mirco ruggeri il progetto finanziato con il contributo della regione marche ci ha permesso di aprire alle visite il palazzo dei principi di carpegna il bilancio molto positivo l'interesse degli utenti è stato veramente tanto abbiamo gestito veramente molte visite e quindi insomma siamo sicuramente soddisfatti un pacchetto poi che non parla soltanto di cultura ma è composto da più elementi sì assolutamente cultura perché chiaramente palazzo dei principi è un'eccellenza da quel punto di vista e ci abbiamo abbinato quelle che sono diciamo le ricchezze del territorio e quindi diciamo che al carpegna holiday oltre alla vista del palazzo dei principi è stata aggiunta una degustazione di prodotti locali molto apprezzata dai turisti e comunque dagli utenti da coloro che hanno potuto provare questa questa esperienza e tanti prodotti tipici tra cui il prosciutto di carpegna il miele il tartufo i legumi di sanzisto i prodotti della marta che è un laboratorio artigianale qua di carpegna i salumi della macelleria baby della macelleria del corso i formaggi locali insomma tutti quei prodotti che sono un'eccellenza gastronomica per il territorio e oltre a questo c'è stata anche la possibilità per questi turisti di fare un'esperienza in bottega presso l'antica stamperia qua di carpegna che ha accolto tante persone mostrando quello che è il lavoro che si fa ancora a mano con la stampa dei tessuti e delle stoffe all'interno appunto della della bottega antica stamperia che si trova presso la pieve di carpegna i turisti che hanno approfittato di questo bel pacchetto e di questa opportunità eh si sono divisi tra quelli che comunque frequentavano la zona di carpegna e quindi erano ospitati qua nei nostri hotel nei nostri campeggi e mh c'è stata una piacevole sorpresa da parte nostra perché effettivamente siamo riusciti anche ad attirare eh persone curiosi dalla costa e anche eh soprattutto dalla nostra costa quindi la costa eh romagnola e la costa di Gabice, Pesaro e Fano eh quindi mh siamo molto contenti di questo perché persone sono partite appositamente dalla costa per eh riuscire a fare questa esperienza attirati appunto dalla bellezza di Palazzo dei Principi ma anche eh ma anche dal eh dal piacere di poter gustare i nostri prodotti e ricordo che ehm questa estate il la giornata dedicata al eh discorso cartegna holiday con visita degustazione e esperienza in bottega era il giovedì e abbiamo cambiato il giorno e quindi adesso la giornata dedicata a questo all'esperienza completa è il sabato eh questo per venire a incontro chiaramente alle necessità delle persone che molto probabilmente non saranno più in ferie ma eh avranno ricominciato a lavorare e quindi potranno farlo il sabato quando sono libere. Le altre due giornate di visita a Palazzo dei Principi sono il venerdì alle in serata alle ventuno e quindici inizia la visita e la domenica alle dieci e trenta. È possibile prendere parte Cartegna Holiday eh contattando la Proloco di Cartegna con una mail oppure telefonando allo 0722 77326 eh numero al quale risponde appunto il personale della Proloco di Cartegna che prenderà nota delle eh varie esigenze e delle prenotazioni. Il capitano Francesco Rizzo è da oggi il nuovo comandante della Guardia di Finanza di Fano. Nel corso della sua carriera il capitano Rizzo ha maturato importanti esperienze su tutto il territorio nazionale e anche all'estero dove fra l'altro è stato impegnato nella task force Grifo in Afghanistan. In occasione del referendum popolare confermativo e delle elezioni regionali del 20 e del 21 settembre si comunica che gli uffici anagrafici effettueranno delle aperture straordinarie per il rinnovo della tessera elettorale. Le sedi interessate riguardano quella centrale di Largo Mamiani 28, il municipio di Monte Cicardo, gli uffici decentrati di quartiere quindi Cinque Torri, Muraglia, Villa Fastigie e Vismara e infine i presidi di Borgo Santa Maria, Fiorenzuola di Focara e Candelara. Per gli orari dettagliati è possibile visitare il sito del comune di Pesaro. Si è svolta questa mattina la cerimonia di consegna della targa del comune di Tavuglia a Luca Marini, il pilota tavugliese 23enne, trionfatore del GP di San Marino nella classe Moto2 lo scorso weekend a Misano Adriatico. Guida la classifica di categoria e quest'anno ha già ottenuto due vittorie e due secondi posti. Un riconoscimento dovuto sia per i meriti sportivi sia per il contributo fornito dal giovane a promuovere il nome del comune di Tavuglia in tutto il pianeta come ha spiegato il sindaco Francesca Paolucci. Riparte l'attività della Lega Navale di Pesaro che rispettando una lunga tradizione organizza anche quest'anno la regata del patrono giunta alla trentesima edizione. Si svolgerà proprio nel giorno chiaramente della festa cittadina cioè il 24 settembre con partenza alle ore 11. Il campo di regata si svilupperà da Villa Marina con direzione Fosso Seiore e diversi percorsi a seconda delle imbarcazioni. Sono ammesse tutte le barche a vela, derive o cabinate che verranno suddivise in diverse categorie. Ed ora andiamo a parlare di opportunità lavorative per i giovani perché scadono lunedì le iscrizioni al bando che la Onlus Gulliver ha pensato per dieci ragazze o dieci ragazzi disoccupati che hanno un'età compresa tra i 18 e 28 anni che avranno la possibilità di toccare con mano il mondo del sociale ed avere anche un piccolo compenso. Vediamo l'intervista allora al presidente Andrea Boccanera. Come sapete la Onlus Gulliver non è mai chiuso durante il periodo brutto del covid. rimpiandosi in città con la distribuzione gratuita di bene e famiglie bisognose. Finito questa pausa di questo periodo ci stiamo rimettendo in forza per riempire i magazzini per quest'autunno che un po' tutti quanti pensano sia un grigio. Quindi il nostro invito alle famiglie pesaresi di conferire in via Toscana 111 dove c'è il nostro magazzino più grande di venire a conferire abiti, cibo e oggettistica. Queste cose poi saranno risistemate e ripulite e messe a disposizione per le famiglie bisognose. La novità è la cosa che abbiamo chiesto come aiuto alla regione, è il bando per il servizio civile regionale. Cos'è questo bando? È un bando per dieci posti, per dieci ragazzi o ragazzi dai 18 ai 28 anni. Quindi ragazzi che non lavorano in uno studio, sono fermi in attesa di qualcosa. Il mio invito è quello di presentarsi presso la nostra sede, far domanda, perché secondo noi è una buona possibilità. Da una parte l'aiuto sociale delle famiglie, perché i ragazzi saranno impiegati in attività sociale di magazzino del cibo, di magazzino del mobilio e dell'abbigliamento per le famiglie bisognose. E comunque per 12 mesi saranno con noi, con uno stipendio di 450 Euro, un orario tipo part-time. Quindi pensiamo che sia una buona opportunità per chi non lavora ed un attimo fermo, quindi dai 18 ai 28 anni, ed un attimo possibilità per conoscere un'associazione di volontà attiva in città che fa del bene le famiglie bisognose. Lunedì 21, scade il bando, quindi fino a lunedì mattina è possibile presentarlo tramite una piattaforma digitale. Comunque il nostro invito è venire qui fisicamente in sede via Toscana, ci sono le nostre ragazze volontarie che aiuteranno i ragazzi a dimettere la domanda nel sistema regionale e a poter partecipare a questo bando, che ricordiamo è per 12 mesi, per 450 Euro mensili, con un orario part-time. Giro di boa per la 17esima edizione di Hangar Fest, completata ormai metà della 17esima edizione, il bilancio del direttore artistico Antonio Cioffi è più che positivo. La terza settimana del festival sarà dedicata al concorso di videodanza Interfaccia Digitale. Siamo più che soddisfatti, è una edizione questa che è partita dopo diversi tentennamenti a causa di questa situazione sanitaria che chiaramente tutti conosciamo. abbiamo navigato a vista per un bel po', poi alla fine, ecco, finalmente il primo settembre la 17esima edizione si è aperta e con uno spettacolo importante, una piattaforma coreografica che ha visto in scena in questo teatro, il Teatro Maddalena a Pesaro, ha visto in scena giovani coreografi provenienti da diverse parti d'Europa insieme a dei pesaresi. Questa settimana avevamo in programma un focus sulla danza israeliana con diversi artisti provenienti da Israele e purtroppo questo è saltato. È saltato per ovvi motivi dovuti proprio alla pandemia. e però al posto ospiteremo una rassegna video, abbiamo aperto una call internazionale, ci sono pervenute tantissime candidature, adesso stiamo scremando e arriveremo a proporre il 18 e 19 eventi, questa rassegna video, dove assegneremo anche un premio, il premio interfaccia digitale, assegnando 1.500 euro all'opera di videodanza che otterrà da parte di una giuria popolare maggiori preferenze. Ecco, questo premio permetterà all'autore di tornare il prossimo anno a produrre una nuova opera proprio qui a Pesaro. Dopodiché il 24 e 25 tornerà Michal Mualem con il suo progetto CoLab, che è una piattaforma coreografica dove ospiteremo ben 16 danzatori provenienti da diverse parti del mondo. Saranno tutti a soli principalmente oppure anche quando in scena ci sarà l'ensemble comunque sempre nel rispetto del distanziamento e questo ci porterà alla fine, alla conclusione del festival, il 2, 3 e 4 ottobre, dove dopo una residenza presenteremo la terza opera in coproduzione di Marta Bevilacqua. Quest'anno il suo lavoro si intitolerà Homing e credo che da parte degli spettatori che la seguono ormai da diversi anni qui a Pesaro c'è una grande aspettativa. Questo segnerà la conclusione del triennio di collaborazione coproduttiva con la compagnia Aerea per poi dare vita a un nuovo ciclo dall'anno prossimo produttivo con altri coreografi italiani. E chiudiamo quest'edizione del nostro telegiornale con alcune informazioni riguardanti lo sport. La Vispesaro e l'Empoli FC disputeranno un amichevole ufficiale sabato 19 settembre alle 17.30 presso lo stadio Carlo Castellani della squadra Toscana. La gara si disputerà a porte chiuse nel rispetto delle normative dei protocolli anti-covid. E l'8 novembre sarà una data da ricordare per la Mobility Pro Pesaro Rugby che dopo la lunga pausa dovuta proprio alla pandemia tornerà in campo per la prima partita della stagione 2020-2021 del campionato di Serie A. Ad oggi non si conosce l'intero calendario dei giallorossi mentre è stato ufficializzato il girone in cui è stata inserita esattamente lo stesso dell'anno scorso quello del centro-sud. L'avversaria più a nord sarà il Nocetto Parma e quella più a sud il Catania. E vi ricordiamo anche quali sono i programmi di questa serata. In prima serata appunto alle 21.15 troverete un approfondimento elettorale dedicato ad Andrea Biancani e subito a seguire alle 21.30 un altro spazio elettorale dedicato invece a Rinascimarche. Io vi ricordo anche la novità di questa stagione cioè il ritorno su Rossini TV del Vallefoglia Magazine condotto da Andrea Sabatini quest'anno, il telegiornale di Vallefoglia, il settimanale di Vallefoglia più esattamente che troverete tutti i venerdì alle ore 19 e le repliche anche il sabato, la domenica, il lunedì e il martedì per essere informati appunto su tutte le notizie di Vallefoglia. Grazie per averci seguito anche questa sera, vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di domani alle 7.20 in diretta con la nostra rassegna stampa. Buona serata.